Siamo al SAIE perché crediamo che le costruzioni in legno siano il futuro del settore costruzioni italiano. È già stato assodato che è il futuro delle costruzioni in legno in Europa e quindi deve esserlo anche per l'Italia. Le case in legno sono assolutamente innovative, i materiali sono innovativi e i benefici sono immediati e lampanti. Chi vive in una casa in legno si può dire che viva di più rispetto a una casa in tradizionale perché il legno è naturale, non dà emissioni nocive e soprattutto rende la vita più serena nell'ambito della costruzione. Noi crediamo in questi principi ed è per questo che cerchiamo di costruire nel miglior modo possibile cercando di dare all'utente finale un prodotto sicuro, certificato e tendenzialmente economico rispetto ai vantaggi che la casa in legno può dare. I tempi di costruzione di una casa in legno? Dipendono chiaramente dal tipo di costruzione ma vanno da un minimo di 4 mesi a un massimo di 7-8 mesi sempre in relazione all'entità della costruzione. Grazie.